Prova, bene, buonasera Pallini Allora, noi facciamo parte della Pallecina, qualcuno di voi si conosce? Bene, allora iniziamo a fare un pallettino, vi divideremo in tre squadre e faremo i tre colori del semafolo Vi sapete quali sono i colori del semafolo? Bravo! E' chiaro, bravo! Allora, sapete che significato hanno i tre colori? Con il verde cosa facciamo? Possiamo passare? Sì! Sì? Sì! Con il giallo? No, piano! Dobbiamo andare piano, però in prossimità del semaforo, vicini al semaforo, ci dobbiamo fermare Per cui dopo qualche secondo, scasserà il... Presto! Bravi! E ci fermiamo! Perfetto! Giusto? Va bene, allora ci dividiamo in tre squadre, nei tre colori del semafolo Allora, quattro bambini per ogni squadra, ogni squadra ha un proprio colore Il verde, il giallo e il rosso Allora, quattro bambini per ogni squadra, ogni squadra ha un po' di squadra, ogni squadra